Siamo in Capitaneria di Porto di Mazzara del Vallo per la rubrica Mare Sicura, accanto a me il Guardia Marina Biagio Semeraro. Oggi parleremo del Bollino Blu. Che cos'è e di cosa si tratta? Innanzitutto buongiorno dalla Capitaneria di Porto di Mazzara del Vallo. Anche quest'anno, a partire dal 15 giugno, è iniziata la campagna per il rilascio del Bollino Blu. Campagna che si svolgerà per tutto il periodo estivo fino al 30 settembre. Che cos'è il Bollino Blu? Il Bollino Blu è un dispositivo di sicurezza di portistica e balneare che è stato ideato proprio per ottimizzare e razionalizzare quelli che sono i controlli in mare effettuati dagli organi di polizia in materia di sicurezza della navigazione da di porto. A chi viene rilasciato il Bollino Blu? Il Bollino Blu viene rilasciato a seguito di esito positivo di controlli effettuati a bordo delle unità da di porto e, novità di quest'anno, unità di di porto anche destinate a locazione e noleggio. Quali sono gli oggetti dei controlli? L'oggetto dei controlli sono il possesso e la regolarità dei certificati e dei documenti necessari per la navigazione nonché avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza previste. Altra novità di quest'anno è la rielaborazione grafica del Bollino Blu con la riproduzione del logo del 150esimo anniversario dell'istituzione del corpo delle Capitanerie di Porto. Per quest'estate ricordo a tutti il numero di emergenza 1530 e la Capitaneria di Porto di Mazzara del Vallo augura buone vacanze e buone estate. Finisce qui il primo appuntamento con la rubrica Mare Sicuro quindi il prossimo appuntamento sarà la settimana prossima. Grazie a tutti.